Grazie a tutti Grazie a tutti Voglio fare un impianto Che da Blades Road Ci da Blades Powder E le Blades Powder danno più EMC Delle Blades Road Vi faccio vedere Se io schiaccio Blades Blades Road Che sarebbero quasi Sono EMC 1536 Nel maceratore ce ne da 5 E 5 Qui valgono a 768 per 5 Quindi 7 per 5 Saranno più o meno 3500 E sono molte di più Quindi ragazzi Molto semplice Ci serve un maceratore Che io ho già craftato Deid Andiamo su a prendere Degli Energy Condenser Mi sa che ce ne servono due Ok Ce ne servono due Poi tu Ok Vedi te Ti faccio E Energy Condenser No beh li ce li ho qua Ok Vendo i Collect E no Mi servono un po' di Red Matter Da bruciare Ehm Minchia Quante ne vuoi? Ehm Vendo Come solo 30 Perché ne abbiamo solo 30 Why? E perché ci ho fatto il piccone E la spada Ah giusto 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 Beh giusto 3 6 Oh 10 Giusti Sono 10 Allora Prendiamoci questi MK2 Direi per adesso Che poi possiamo farli in seguito Bruciamo Abbiamo un milione Potremmo prendere anche le MK3 Che non ho fatto Non ho insegnato Vabbè Prendiamo Cominciamo a prenderne 4 di questi qua Ok Ne abbiamo 4 Perfetto Energy Condenser Ne prendiamo 2 Ok E basta Ci servono poi I Abbiamo gli Engine Le Redstone Engine Se no me li fai I te Le Redstone Engine Ne abbiamo 4 Ne abbiamo 4 Ne servono 2 Ok I cavi li ho presi Poi ci serve I Wooden I Wooden Pipe Mi pare che pure quello Abbiamo anche quelli E abbiamo anche questo Abbiamo tutto Abbiamo tutto Vieni Dedica Andiamo giù Passando i guardi Andiamo giù Allora Il principio è molto semplice Allora Abbiamo una Ce la fai a prendere una Blaze Road Abbiamo una Blaze Road Che buono Come poi Dai Ded Dobbiamo andare a esplorare Quella parte di mondo Che non abbiamo visto Là dove c'è il castello Ok Abbiamo fatto insegnare Scendiamo ragazzi adesso E vedete la cosa bella Io quasi quasi Ti direi Vai a prendere un 10 diamanti Ok Ok salgo Ok Solo 10 Sì basta Quanti se ne servono Prendi uno stack Per adesso Vediamo un po' Ok Ho preso uno stack Io metto la Blaze Road qui E incomincio a partire ragazzi Allora ragazzi Dobbiamo piazzare Un Redstone Engine Qua Mettere una La leva la mettiamo dove La mettiamo sotto il coso Così almeno non si vede Porca trota E' vero che qua è tutto bucato Guarda Ce l'hai una leva Io non ho leve Vado a prenderla Sì sennò prendo questo Momentaneamente Guarda No 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 Non staccare niente Che poi 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 Tanto la batbox Prendo questa qua Quindi Lì poi rifacciamo Metto una leva Comunque Fallo non stasso Che c'è un'altra Metto una leva qua Poi Chiudiamo qui Chiuderà Deid Io ora Qui devo piazzare Un maceratore Purtroppo però Non avendo I sandstone pipe Devo metterlo Un pochino staccato Perché Ora qui Chiudiamo un attimo Spegniamo Wooden Cobblestone E io faccio così ragazzi Tac Poi faccio Tac Tac E tac E da qui parte Anche in questo Sto per starnutire Ok Starnutisce Anche in questo caso Ragazzi dovremmo mettere Un engine Un Cosa del genere Ok Passa Dove sei? Sì Ok È l'inventario Mettiamo sempre qua sotto Deid Va bene Mh Mettiamo una leva Qua sotto E anche qua In questo caso Basta mettere Un energy condenser In questo caso Riusciamo a fare Una cosa un pochino più Tranquilla Perché basta fare così E così Qui mettiamo magari Red matter Possiamo mettermi Cominciamo a mettere Eh Hai diamanti hai detto? Sì No 60 watt Passamene uno E ora facciamo vedere bene il funzionamento Allora innanzitutto abbiamo Basta Basta uno su Uno su No Brucia tutto No Non bruciare Non bruciare Aspetta Ok Qua sta già caricando Perfetto Qui sta già facendo le blades Siamo già a 14 Perché ci siamo fermati Un attimino Deid Cosa dobbiamo fare Ora dobbiamo attaccare La nostra bella Buttbox Non so se la rompevo Ci dava Ok No È scarica adesso E fa niente La carichiamo Non ti preoccupare Ok Scusa ma Il cielo bello Vediamo se è scarico Giustamente Beh è giusto che sia scarico Mettiamo Qui Dietro questi E Deid Cosa fai La porti te In alto Non hai cavi C'ho due Io C'ho due Io C'ho due Facciamo Dai scava Marci Scava Marci Scava Un piccolo Marci Ok Ok Dove li metto I Dove ti porta Il cuore Marci Qua Uno Lo mettiamo Qui Uno Con due Spadata Il creeper Muore E uno Lo mettiamo Qui Perfetto Però Devi collegarmi Gli altri Perché non li ho collegati Oh porca Troppo Aspetta No niente Ce l'ho fatto Forse C'è Vai Collega Dove è il terzo Porca miseria Ho fatto Dei danni assurdi Dei Vabbè Chi se ne frega Quantino vale danni Deid Hai collegato Vai Uno Due E l'altro E qui Ok Perfetto Levanti Che scendo Ok Vediamo se carica La nostra Buttbox Dove cazzo Devo uscire Io Si Sta caricando Anche Velocemente Perché sta Ho detto Che caricavano Bene Tre Sì Non è che carichi Così veloce Però Vabbè Tanto poi Quando si caricherà Prenderai Il ritmo Ora Facciamo partire Il tutto Tac E tac E guardate Un pochino Ragazzi Qui Arriverà La Qua dobbiamo mettere Una cosa Di Gold Di oro Per prendere Subito No ce l'ho Ce l'ho Però Dove la mettiamo No niente Mettiamo Dove vuoi Perché mi mette L'ansia Prendi la redstone E fai una torcia di redstone No ma tanto va bene Va benissimo No non mi interessa Deve essere veloce Come Gesù Vediamo un attimino Se funziona Qua La velocità Della luce Si sta caricando Dalla grande Basta prendere Magari Un overclocker Che tanto Qui non Metti 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 Un diamante Ok vedete È diventato A 700 In più Ragazzi Questo funzionamento È veramente bello Personalmente Mi piace E penso che Ci posso aiutare tantissimo Nella ricicena Nel fare i diamanti Anche se siamo già Strapieni Però Anche perché Adesso abbiamo Tutto a moltiplicare Tutti i materiali preziosi Ci sono Metti E quindi Siamo a posto Anche con Il diamante Però Però Qui possiamo mettere Anche altre cose Nel senso Qui potremmo fare Una cosa del genere Che questi Blades powder qua Vanno tipo Da sotto E vengono riportati Dentro questa Energy condenser qua Per fare Blades road infinite Per poi Vabbè Bruciarle in seguito Però non credo Che sia la cosa migliore Però visto che è una cosa Troppo OP Abbiamo deciso di fare Solo questo No Marci non li regge Due Teniamone solo Tiene 8-8-1 Ma tanto possiamo Mettere neanche 0 Tanto non è che Ci cambia tanto Infatti si Vedi tanto Ok Quindi ragazzi Per questo episodio Tutto è stato Corto anche nel mio caso Però questo piccolo Impianto Penso sia abbastanza Carino E puccioso Puccioso non c'entra un cazzo Infatti Vabbè Ti banno dal server E così puccioso Banno Marci No non mi bannate E quindi ragazzi Per questo episodio Tutto vi invito A passare Nell'episodio Delle 12 di Dade Che abbiamo fatto I picconi E le cose qui In Red Matter Che sono stati abbastanza Fili di farli Perché stanno Putando Dade Nella lava Questo impianto qui Possiamo farlo Con tante altre cose Che potrete dirci voi Nei commenti Possiamo sempre Accontentarvi Qui ovviamente Bisognerebbe mettere C'è della C'è della glowstone Nell'inventabile Ne ho giusto una Guarda Metti No glowstone E io no Qua Ok va bene Ah quelle grandi No ma va bene lo stesso La metto qua intanto Vai Guarda che fai più energia Se lo metti sopra Eh lo so Lo so Però vabbè Poi sistemiamo per bene Vabbè sì Qui sta andando abbastanza bene In teoria Dovremmo riuscire A mantenere pieni Qui no Quello di gold Perché se no Non conviene Sì perché altrimenti Diventa pieno Guardi un overclocker Glielo metto Tanto uno solo Lo regge Possiamo fare una cosa Che ha fatto appunto Il ragazzo che vi diceva Allora In teoria Adesso non mi ricordo bene Come aveva fatto Però doveva essere Una cosa del genere Tipo Così Vabbè Adesso devi considerare Che i motori Stanno ancora andando piano Ok guardate qua Perché sta cosa? Dovrebbero girare Però non sempre Perché fai girare Sti cosa? Tornano indietro E devo guardarmi Vede l'impianto Che mi ha mandato Il ragazzo Adesso li faccio Schizzare via La velocità Da lui No alcuni scendono Vedi che alcuni scendono Sì sì Vanno Se alcuni fanno il giro Eh ma alcuni Tornano troppo indietro E qui bisogna mettere Una iron pipe Ce l'hai Le iron? Eh sono sopra Da pen Sì ok Prima la prende così Finiamo sta cosa Che è figa Secondo me ragazzi Ci sta E no vanno troppo veloci È meglio lasciare Il cobblestone forse Sì No di vero no Neanche Vediamo Questo va di qua E va giù Marci? Sì Figlia Lì Però non mi ricordo Questo qui Bisogna farlo In questa maniera Dove sono Quelli di iron Dove l'ho messo Vedanto ce l'avrei in cio No ma è giusto Si è già messo giusto Dovrebbe essere giusto Almeno Vediamo Sì è giusto Però se non riescono Vediamo Eh sta uscendo adesso Sì è giusto Perché sta salendo Vediamo È entrato Ok è giusto GG Vediamo adesso dove va Se questo qui Gira 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 Ha girato Perché ha girato Vabbè la stessa cosa L'importante è che non torni indietro Uh Figo Vedi Oh giro infinito Assurdo No uno è sceso Dai uno è sceso Ok tutto a posto 26 26 Sì dai funziona ragazzi Funziona Quindi ragazzi Per questo episodio è tutto Scusami se non ho fatto giusto Come avevi detto te Ma non mi ricordo Mi non scrive Nel prossimo episodio Comunque lo vedremo Ti saluto E per questo episodio è tutto Ci vediamo al prossimo video Dalla Marce è tutto Bella Ciao Bella